Oltre 6.300 prodotti raccolti in meno di una settimana nelle sette farmacie gestite da AZSPA. Cittadini, associazioni e aziende locali hanno dimostrato un grande spirito di solidarietà verso il popolo ucraino partecipando in massa alla raccolta di prodotti farmaceutici organizzata dalla società dei servizi. Per ogni prodotto di primo soccorso che i clienti hanno deciso di donare, la farmacia comunale ne ha aggiunto uno identico raddoppiando di fatto la donazione. Presidente, possiamo dire un ottimo risultato? Sì, al di sopra delle nostre aspettative perché non pensavamo di racimolare sui quasi 35.000 euro di farmaci in un momento come questo. Invece c'è stato un gran afflusso da parte della gente comune, ci sono state delle belle risposte da parte di qualche azienda, nostri fornitori e anche di alcune associazioni che si sono prestate in maniera molto seriosa e molto disinteressata a questo genere di iniziativa. Noi abbiamo garantito la raccolta dei medicinali, ha proseguito Paolo Reginelli. Ma ora Aset si affida al CB Club Mattei di Fano. Infatti, domani intorno alle 10.30, i volontari di protezione civile partiranno per un viaggio di 1680 km. Attraverseranno Austria e Repubblica Ceca fino a raggiungere la città di Zamosk, nella Polonia sudorientale, dove i prossimi giorni incontreranno i referenti del Rotary locale, i quali provvederanno a consegnare gli articoli in Ucraina attraverso i corridoi umanitari. Ci sarà questo pulmino carico di medicinali che verrà portato in Polonia, alla frontiera e poi lì verrà distribuito praticamente alle autorità competenti in modo da avere una parte importante per chi arriva come profugo e in parte penso che debba essere inviata anche all'Ucraina, quindi a coloro che hanno problemi in questo momento nei vari ospedali o centri per le medicazioni e tutto il resto. Grazie a tutti.